Musica Benvenuti oggi 18 agosto. Il santo del giorno è il santo emiliano. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo l'attore Robert Redford. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete. Il pericolo maggiore oggi è rappresentato dalla vostra distrazione che vi potrebbe condurre a commettere degli errori irreparabili. Le cause sono di natura affettiva. Toro. State per superare tutte le difficoltà. L'energia vi consente di procedere con chiarezza di idee. Se vi troverete ad affrontare una scelta sappiate che in certe situazioni serve elasticità. Gemelli. Potrete fare affidamento su alcuni appoggi influenti che vi aiuteranno a superare le difficoltà del momento. Avrete inoltre delle buone intuizioni economiche. Cancro. Con un poco di slancio saprete superare bene i vari dubbi ed organizzarvi meglio. I brevi momenti di tensione dovrebbero rapidamente passare. Un invito per la sera. Leone. Farete la conoscenza di una persona giovane e simpatica. Questa nuova amicizia sarà fonte di momenti molto piacevoli. Non trascurate gli impegni precedenti. Vergine. Avvertirete il desiderio di crescere e di migliorare interiormente. La possibilità di attuarlo vi verrà offerta dalla richiesta di collaborazione di un'opera di volontariato. Bilancia. Gli astri rappresentano per voi un ostacolo, una limitazione alla vostra libertà. Dentro di voi sono maturate nuove risposte che consapevolmente ritenete più giuste. Scorpione. Sarete molto affascinati e ammirati da tutti. In amore la vostra sensualità vi metterà sulla strada giusta per incontrare la persona a voi destinata. Accettate ogni invito. Sagittario. Deciderete di trascorrere una giornata diversa dal solito. Sarete portati ad organizzare una gita fuori città in compagnia degli amici. Il partner sarà felice della vostra iniziativa. Capricorno. Data l'odierna posizione degli astri avrete una battuta d'arresto nei vostri piani. Non forzate nulla. Aspettate qualche giorno prima di prendere una decisione. Acquario. Quante idee originali avrete oggi? Vi saranno utili sia in campo mondano che in quello personale e sentimentale. Vi giungerà una piacevole notizia da un amico che vive lontano. Pesci. Le stelle vi consigliano di curare maggiormente il vostro aspetto fisico, di raffinare il vostro look e di incominciare una volta per tutte una dieta. Riservatezza. Proverbio del giorno. Malcomune. Mezzo gaudio. Questo è tutto per oggi. Arrivederci. A domani. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.